Polveri sottili e altri inquinanti atmosferici, il Consiglio regionale approva una legge che stabilisce limiti ai sanzioni nei comuni dove i valori sono stati superati. Spiegheremo le nuove regole, ascolteremo i commenti di chi ha votato la legge e le ragioni di chi vi sia opposto. Anche la Toscana avrà un sottosegretario alla Presidenza della Giunta, sarà un consigliere regionale e non determinerà costi aggiuntivi sul bilancio. Lo stesso accarrà per i due nuovi membri dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea che così si allargerà da 5 a 7. Verremo in sintesi tutti i provvedimenti approvati nelle ultime sedute, a cominciare dai bilanci dell'autorità portuale regionale di Ente Acque e Umbre Toscane. Si è parlato anche della situazione nei pronto soccorso e del futuro degli aeroporti toscani. Sullo sfondo poi la notizia della settimana, l'arrivo della nave rigassificatrice a Piombino. Tante anche in questi giorni le iniziative presentate a Palazzo del Pegaso, come il Capodanno dell'Annunciazione e Pinocchio sull'Isci. In primo piano noi mettiamo però il nuovo bando del Consiglio regionale per progetti di sviluppo sostenibile e cultura che intende bissare il grande successo di rigenerazione toscana del 2022. Le risorse più di un milione derivano dai risparmi dell'Ente e oggi noi partiamo proprio da qui. Il titolo del bando dice già molto la via del futuro, dove via in realtà è anche un acronimo, una sigla. Via come verde e il sostegno alla mobilità sostenibile, inclusiva, così mettendo a disposizione risorse per arredo scolastico per studenti con disabilità. È aperta, aperta come le pagine di un libro e quindi risorse che mettiamo a disposizione per la promozione della lettura. Insomma la via del futuro è una strada da costruire insieme a tutti i comuni della nostra regione. Ogni comune può rappresentare una sola domanda per uno dei tre ambiti. Il contributo massimo sarà di 15.000 euro e per almeno il 20% dovrà essere coperto dallo stesso comune. Per la presentazione delle domande c'è tempo fino al 17 aprile. Complessivamente le risorse ammontano a 1.050.000 euro. Metà vanno alla mobilità sostenibile per le colonnine e i veicoli elettrici, 200.000 euro per la promozione alla lettura, 300.000 euro per l'inclusione scolastica con arredi per studenti diversamente abili. Siamo riusciti a elaborare una proposta che potesse parlare anche alla Toscana del futuro. Questa Toscana che possa veramente essere una terra di prospettiva per lo sviluppo sostenibile, per la cultura, per il turismo. La via della Toscana e del futuro. Sono particolarmente contento che vi sia ancora attenzione ai ragazzi diversamente abili quest'anno per il mondo della scuola, per gli arredi. Abbiamo ciascuno di noi dato collegialmente un contributo importante per far sì che vi possa essere un'attenzione verso la Toscana del domani partendo dai giovani. Bando importante che dimostra quanto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sia aperto elementi di innovazione. Parla al futuro, parla ai giovani, parla all'inclusività, parla a una Toscana verde, a una Toscana che vuole essere innovativa. Lì sta la tematica del rispetto dell'ambiente con l'innovazione per quanto riguarda i veicoli elettrici, le opportunità per i comuni, per quanto riguarda anche le scuole, l'inclusività, la possibilità di fare degli arredi ovviamente per i ragazzi disabili, ma non solo. Incentivi anche alla lettura, quindi una risposta culturale, una risposta di inclusività, una risposta di opportunità, una risposta di futuro. In sintesi, la prima particolarità del bando, lo abbiamo sentito, è che le risorse derivano dagli sparmi dei costi della politica. La seconda è che i membri dell'ufficio di presidenza svestono la casacca di partito. Molte risorse, come abbiamo visto, vanno poi a progetti per il settore culturale. Come Presidente della Commissione Cultura sono molto contenta che l'ufficio di presidenza abbia stabilito questa misura di finanziamento attraverso i bandi su progetti dedicati alla lettura. Gli Stati Generali della Cultura, che il Consiglio insieme alla Giunta sta portando avanti, hanno individuato in una proposta di legge, a mia firma, ma poi trasversalmente accolta da tutti i colleghi della Commissione Cultura, una proposta di legge al Parlamento sulla lettura nelle scuole. Una piccola rivoluzione che ci consente, se il Parlamento vorrà approvarla, di introdurre ogni giorno nel diario scolastico, nell'orario scolastico, uno spazio di libertà per la lettura libera di ragazzi, ragazze e insegnanti. In alcune aree della Toscana c'è un problema di inquinamento atmosferico. Nella Piana di Lucca e in Val di Nievole le polveri sottili PM10 superano i livelli. Una legge del 2019 limitava allora l'uso degli impianti di riscaldamento alimentati a biomasse vegetali, come i camini o le stufe non ad elevata efficienza. Le nuove norme modificano e integrano adesso quella legge e danno anche un vantaggio concreto a chi dovrà sostituire il proprio impianto. C'è un problema di salute, quindi cosa ha deciso la Regione in collaborazione con il Ministero? Di intervenire in quei territori attraverso dei bandi che verranno fatti. I cittadini possono sostituire o ammodernare il camino con nessun costo tenendo conto dell'Isee perché ci sarà uno sconto da parte dei fornitori. Quindi non dovranno anticipare nessun soldo. Siamo attraverso il lavoro che abbiamo fatto Commissione siamo riusciti a cambiare. Non ci sarà un anticipo da parte del cittadino ma ci sarà uno sconto da parte dei fornitori. Quindi non costerà niente a determinate categorie di cittadini cambiare il camino. Lo potranno quindi continuare una volta fatto il lavoro continuare ad accendere e questo significa intervenire sulla salute di quei cittadini. Davvero il rischio è molto alto e l'incidenza delle malattie è molto alta. Anche le opposizioni apprezzano il lavoro di approfondimento svolto all'interno della Commissione e sfociato poi nel dibattito in aula. Alla fine votano però contro con queste argomentazioni. Se Regione Toscana avesse operato dal 2009 al 2023 quanto stamani ha dibattuto in aula sulla PM10 è probabile che nella Piana di Lucca sarebbe venuti dal Trentino a respirare la nostra aria. Così non è. Fratelli d'Italia ha espresso un voto contrario su una legge che scarica sui comuni adempimenti che i comuni non sono in grado chiaramente di poter eseguire per le note carenze del personale che sostanzialmente vanificano le misure fino ad oggi prese per contrastare il livello delle PM10. Siamo appunto a capo. Grandissime disponibilità a ragionare con l'opposizione quando non si hanno risposte e in altri casi, l'abbiamo visto per i nomi dell'ATC, l'assoluta incommunicabilità per tutto quello che invece fa sostanzialmente il gioco politico di questa maggioranza. C'è chi apprezza il lavoro svolto ma dice che le priorità vere per combattere l'inquinamento sono ben altre. Bisognerebbe pensare a quello che è il problema infrastrutturale regionale, al problema della mobilità dove anche qui la regione toscana è in forte ritardo. Come è in forte ritardo? È stata in forte ritardo sui controlli in tutti questi anni riguardo alle PM10. Quindi oggi la regione toscana probabilmente spinta dalle sentenze, dai provvedimenti che vengono dall'Unione Europea e che sono causa dei ritardi della stessa, ebbene va a far ricadere sulle spalle dei cittadini e sulle spalle degli amministratori pubblici costi e elementi organizzativi che probabilmente non saranno in grado di supportare. Infine sul tema ascoltiamo un'altra voce della maggioranza. Noi siamo stati i primi come forza politica al Consiglio regionale a opporsi a un quadro normativo che imponeva lo spengimento dei caminetti, soprattutto nelle aree di Pistoia e di Lucca e la nostra mozione, il nostro atto ha fatto interloquire l'assessore con il governo. Abbiamo provato anche a livello comunitario di agire su una normativa. Il testo che arriva in fondo prende atto anche delle nostre richieste di modifica della dimensione sanzionatoria, è evidente che si va nella direzione di fare il massimo per la tutela di carattere ambientale e nello stesso tempo condividendo e convivendo con un quadro ovviamente infrastrutturale di molte famiglie, di abitazioni che devono fare interventi di adeguamento al loro interno, quindi serve anche un po' di prudenza. Una modifica allo statuto regionale aveva già introdotto sulla carta, anche in Toscana, la figura del sottosegretario alla Presidenza della Giunta e aveva allargato l'ufficio di Presidenza del Consiglio a due nuovi consiglieri. Il problema, sollevato da molti, era quello dei possibili costi. Con la nuova legge però le spese aggiuntive si azzerano, vengono riassorbite e insomma non graveranno sul bilancio della Regione e secondo molti esponenti di maggioranza e opposizione migliorerà la qualità del lavoro anche dei consiglieri. È una figura che può risultare importante e molto utile per un migliore e maggiore collegamento tra i lavori del Consiglio e quelli della Giunta. Quindi è una figura che farà lavorare meglio entrambi i contesti e quindi aggiovarne saranno i cittadini toscani perché se l'amministrazione pubblica aumenta la qualità è chiaro che aumenta anche l'efficacia e quindi aumentano anche le risposte che noi vogliamo dare. Siamo favorevoli e abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario perché in questi due anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente e l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio, nelle varie commissioni, nella presentazione di proposte di legge, quando parlavamo di bilancio, di ambiente, di lavoro, di sanità. E quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga, ripetendo che è a costo zero, quindi ha invarianza di costi. Più critica appare la posizione del capogruppo di Fratelli d'Italia che pure non contesta di per sé l'istituzione del sottosegretario. Per noi è utile una figura ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale. Ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini che ci sia una figura che faccia dal raccordo politico tra la Giunta e il territorio, c'è assolutamente, per noi è utile. Poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico, perché hanno aspettato due anni e mezzo a portare la legge in votazione all'Aula. Lo hanno portata, dicendo, al termine di un congresso, di un'assemblea regionale del Partito Democratico, 5 mesi fa, quando il Presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura, l'ha derubricata una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta. Quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta, ci sembra un po' una forzatura. E rivela molte perplessità anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle nel suo intervento. La figura del sottosegretario come dell'allargamento dell'ufficio di presidenza, laddove abbia una funzione di utilità in qualche maniera per il nostro lavoro, e quindi per il lavoro che serve a tutti i cittadini, ha un senso. E quindi non siamo contrari in maniera ideologica. Quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo, e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea, Arpa, quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative, spendere mezzo milione di euro per dare un appannaggio, un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche. Mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore, quel non assessore che con tanta energia Eugenio Eugiani ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni. La maggioranza su questo punto comunque perde un pezzo, Italia Viva infatti non partecipa al voto, il capogruppo spiega così questa posizione che ricalca in effetti quella già presa in passato. Continuiamo nella nostra coerenza, siamo ormai arrivati a metà del mandato, riteniamo eccessivo un appesentimento dei costi della politica, anche in un momento molto delicato di crisi economica, di difficoltà del personale dipendente, c'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali, c'è un'avvertenza molto delicata, tante sono le avvertenze anche nel mondo del lavoro e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere perché a nostro avviso non è opportuna. Si è visto che in due anni e mezzo di mandato, come abbiamo espresso, anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della Giunta in questa prima metà del mandato, si possa proseguire in quella direzione, siamo stati coerenti, non abbiamo partecipato al voto perché riteniamo che questo non fosse opportuno. Noi siamo convinti che la dotazione di otto assessori, 41 consiglieri e 5 persone in ufficio presidenza sia ampiamente sufficiente per svolgere le funzioni sia di carattere politico che di carattere di rappresentanza che di carattere amministrative. Il Consiglio regionale approva i bilanci dell'autorità portuale regionale, quello preventivo del 2022 in equilibrio e quello degli investimenti fino al 2024, vale 12 milioni, 8 per Viareggio, 2,2 per Porto Santo Stefano, 840 mila euro per il Giglio e 670 mila euro per Marina di Campo. La regione paga il 77% del totale, il resto è a carico dello Stato. In tempi di siccità assume ancora più importanza il voto sul bilancio di previsione di Ente Acque Umbre Toscane che, lo ricordiamo, si occupa della gestione di quattro importanti dighe, Monte d'Oglio, Sovara, Chiascio e Calcione e di parte di progettazione e esecuzione delle opere di accumulo e distribuzione delle acque. Il bilancio si rivela in linea con quello degli anni precedenti. Durante la seduta si è parlato però anche di importanti temi di attualità di altro genere. La nave rigassificatrice è arrivata. L'abbiamo seguita in tutto il suo percorso toscano, dall'affaccio al porto fino all'attracco di domenica sera e ai primi commenti dei vertici di SNAM e del commissario Gianni. Ora, in attesa del pronunciamento del TAR previsto a luglio, si lavora sulle possibili compensazioni per il territorio e la sua gente, a partire dai costi dell'energia. Quello che può accelerare, quella che è una volontà già espressa dal governo di diminuzione delle bollette per i cittadini e per le imprese, forse è bene partire da subito. Quindi, come la competenza è del governo, siccome comunque non è stata ancora predisposta l'intesa fra regione e governo su queste opere complementari, io direi di far andare avanti una corsia di accelerazione da parte del Consiglio regionale con una mozione che non può che essere un atto di indirizzo perché poi è il governo che stabilisce questa diminuzione. Però mi piacerebbe che da parte delle autorità di governo la previsione di un taglio delle bollette che si riferisca ai cittadini e alle imprese del territorio possa essere prevista il prima possibile. La questione di rilievo nazionale, già si è conclusa la prima asta del gas trattato dalla Golar Tundra, un impegno di 20 anni addirittura, considerando che poi l'impianto continuerà a lavorare in una piattaforma offshore, fuori dalla Toscana, sembra, o in Adriatico, nell'Alto Tirreno. Restano i dubbi di una parte della politica e anche delle istituzioni, sindaco in testa. Quelle che Eugenio Gianni chiama compensazioni sono delle misure che spetterebbero di diritto a questa porzione della costa che è stata bistrattata e penalizzata per tanti anni. Quindi a distanza appunto di tutto questo tempo sentir dire che quelle compensazioni sono qualcosa che viene dato in cambio dell'accettazione della nave rigassificatrice per cui appunto un piano di sicurezza ancora noi non abbiamo potuto vedere, credo che sia molto grave e soprattutto sia ingannevole nei confronti delle persone e questo non lo possiamo accettare. Il governo Meloni ha confermato il progetto avviato dall'esecutivo di Draghi, però a Piombino ci sono già state 67 manifestazioni di protesta e la gente continua ad essere preoccupata. Ma sulle compensazioni Gianni ha giocato l'ennesima partita tutto da solo, ha mancato di coinvolgere il sindaco della città andando lui direttamente a trattare con il precedente governo queste pseudo compensazioni, in realtà molte delle quali sono già sulla carta degli accordi di programma che da decenni vedono il comune di Piombino in attesa della pulizia e del recupero di aree enormi che sono considerate SIN, le ex SIN, cioè le aree speciali dal punto di vista dell'inquinamento ambientale. Quindi ogni compensazione è sempre ben accetta all'interno di un territorio, forse anche più grande perché il danno minacciano soprattutto i comitati, l'amministrazione, oltre il semplice Porto, la sola città ma riguarda tutta la Val di Cornia. Non disconosciamo certamente l'esigenza di approvvigionare il nostro paese ma questo memorandum fatto da Gianni in realtà il Consiglio regionale non l'ha mai sostanzialmente visto né mai l'ha approfondito esattamente come la città di Piombino. Altro tema caldo, lo sviluppo degli aeroporti, dice in aula il Presidente Gianni rispondendo ad un'interrogazione del Consigliere di Italia Viva Sguanci che la nuova pista di Peretola si farà a partire dall'autunno, aggiunge la volontà della regione, è quella di realizzare la nuova aerostazione a Pisa e la pista di Peretola. Quest'ultima può consentire gli obiettivi di sicurezza e abbattimento dell'inquinamento acustico nello scalo fiorentino. La notizia vera riguarda proprio i tempi. Entro Pasqua, dice Gianni, il materiale di questo progetto di pista declinata di 2200 metri sarà trasmesso a Roma, poi comincerà il percorso per le autorizzazioni via e VAS e a quel punto potrà cominciare anche la fase esecutiva. Presumo, conclude Gianni, che a settembre e ottobre inizierà la fase di realizzazione dell'opera. Si è parlato anche del pronto soccorso nell'ultima seduta all'interrogazione presentata dal Consigliere della Lega Ulmi che è anche Vice Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali e ha risposto direttamente all'assessore Bezzini che ha parlato di due scelte già operate, l'innovazione organizzativa del settore emergenza-urgenza anche nel rapporto con il resto delle strutture ospedaliere e poi c'è un incentivo per i medici che lavorano nel pronto soccorso con l'anticipo dell'80% delle risorse a disposizione ma non ancora utilizzate. Sono state molte le iniziative presentate in Consiglio regionale sulle quali abbiamo informato subito tempestivamente nei nostri telegiornali ogni giorno, ne mettiamo però in evidenza due anche qui e ci trasferiamo allora idealmente alla Betone, lì e in tutte le montagne Toscane effettivamente nella seconda parte dell'inverno si è sciato molto e in questi giorni proprio la Betone diventa il teatro di Pinocchio sugli sci, fino al 1 aprile si confrontano come da tradizione i migliori giovani talenti dello sci mondiale, sono 2000 saranno i campioni del futuro. Sì, a Betone è sempre la patria del Pinocchio sugli sci, è la 41esima edizione, abbiamo ospitato grandissimi campioni che hanno onorato anche un territorio che ha dato in Natalia tanti campioni come Zeno Color, Celina Seghi, Pari di Emilianti, Vittorio Chirroni e Pinocchio sugli sci ha visto correre, ha visto vincere nelle sue edizioni tantissimi personaggi che oggi sono, fra cui Sofia Goggia per dire un nome, sono al top delle classifiche agonistiche per cui ha un pochino questo legame forte che appunto mette insieme i campioni del passato con quelli che sono stati campioni pochi anni fa e che lo sono tuttora sulle piste da sci. Alla conferenza stampa, oltre al presidente Mazzeo, ci sono due ex amministratori del territorio, Diego Petrucci che ha fatto il sindaco e Federica Fratoni che è stata presidente della provincia di Pistoia. Una festa dello sport, una festa della gioventù veramente incredibile, a me piace chiamarlo la favola del Pinocchio sugli sci, è il messaggio più bello che parte proprio dall'abetone che questi ragazzi, queste ragazze, queste bambine e questi bambini arrivano appunto all'abetone da bambini e lì vivono però già il mito dello sci e poi diventeranno campioni nel corso degli anni. Tutti i più grandi campioni di sci degli ultimi 40 anni sono passati dall'abetone e dal Pinocchio sugli sci. Quindi questo messaggio bellissimo all'abetone da bambini che per poi diventare campioni. E poi appunto il fatto di essere il capologo dello sci per una settimana all'anno penso che sia una cosa assolutamente importante ed era giusto che il Consiglio regionale della Toscana volesse partecipare effettivamente anche con un contributo importante alla montagna, al Comune di Abbetone e Cutigliano per sostenere questa iniziativa. Io sono molto felice che questa manifestazione che chiaramente conosciamo da tempo, che tutti conoscono da tempo, venga assunta dal Consiglio regionale come una propria manifestazione, una gara indirizzata ai giovani di tutto il mondo nel segno che lo sporta alla fine al linguaggio universale che fa superare tante differenze ma anche una gara competitiva vera dalla quale nascono sempre nuovi campioni. In particolare quest'anno è un anno delicato perché è il primo anno senza la madrina storica della manifestazione, Celina Seghi, ci saranno delle celebrazioni in suo onore però veramente un pensiero affettuoso e commosso a quella che è stata l'anima per tanti anni del Pinocchio sugli sci. E poi c'è il capodanno dell'annunciazione che da anni si celebra in particolare storicamente a Pisa e a Firenze. Ecco le nostre immagini del corteo storico verso la cattedrale di Pisa dove inizia il nuovo anno, siamo adesso già nel 2024. Stavolta comunque è Arezzo che ospita il corteo del 25 marzo al quale parteciperanno i gruppi di rievocazione storica che provengono da tutte le province della Toscana. Innanzitutto buon 2024 alle cittadine e ai cittadini toscani, grazie all'amministrazione comunale di Arezzo per aver partecipato insieme a noi all'organizzazione di questi tre giorni che ricordano quando il capodanno iniziava nel giorno dell'annunciazione. Noi abbiamo voluto con forza anche cambiare il nome in questa legislatura proprio per dare il senso storico, storie, tradizioni che si tengono insieme. Un grazie di cuore sentito a tutte le associazioni di rievocazione storica. Sono tante in Toscana, tutte svolgono un ruolo importantissimo ed è bello sapere che noi in questi anni ci muoveremo in tutti i principali comuni della Toscana che hanno iniziative di questo genere. Con questo sguardo sul futuro con il quale abbiamo iniziato e finiamo vi diamo appuntamento alla prossima puntata in onda venerdì 31 marzo dopo il telegiornale della sera e in replica per tutto il weekend successivo.